Nelle precedenti video lezioni abbiamo iniziato a parlare della scolastica, che è la filosofia cristiana medievale, conoscendo appunto Giovanni Scoto e Anselmo d'Aosta. In questa puntata approfondiamo un altro esponente della scolastica, Pietro Abelardo. Egli insegnò da prima dialettica e successivamente teologia, presso la scuola cattedrale di Parigi, e fu un maestro molto apprezzato, tanto da contribuire con la sua celebrità allo sviluppo della scuola di Parigi. Egli fu però anche criticato e persino perseguitato, sia per la relazione sentimentale che ebbe con una ragazza di nome Eloisa, sia per la sua dottrina trinitaria, che fu condannata nel concilio di Sasson. Le opere principali sono Il sì e no, il trattato sull'unità e trinità divina, l'introduzione alla teologia, la teologia cristiana e l'etica o conoscite stesso. Di rilevo sono anche le lettere che Abelardo scrisse alla sua amata Eloisa, tra le quali la più famosa fu Storia delle mie disgrazie, che è la sua autobiografia. Vediamo ora velocemente quali sono le principali teorie del filosofo. Abelardo è un grande sostenitore della ragione, infatti suo motto è intelligo ut credam. Questo significa che posso credere soltanto ciò che prima ho compreso, capito con l'intelletto, quindi con la ragione. Secondo Abelardo è fondamentale usare la ragione non, ossia del sì e no, che poi diventerà il metodo utilizzato dalla maggior parte dei pensatori della scolastica. Secondo questo metodo è importante stabilire una questione e rilevare quelli che sono gli argomenti a favore e gli argomenti a sfavore per arrivare a trovare due soluzioni, scegliendone infine una e confutandone l'altra. Inoltre, secondo Abelardo, le tre persone divine della Trinità hanno ognuna la propria caratteristica, un proprio attributo. Il padre potenza perché Dio può fare tutto ciò che vuole, il figlio è la sapienza perché Dio è la verità e sa e conosce tutto, e infine lo Spirito Santo è carità perché Dio è buono e vuole che tutto sia indirizzo allo scopo migliore. Fu proprio questa teoria che lo portò ad essere condannato, soprattutto per via delle feroci critiche di Bernardo di Chiaravalle. L'azione di Dio nel mondo, secondo Abelardo, è necessaria ed è sempre mossa dal bene. Tutto ciò che fa è volto al bene e non si può chiedere di più, magari dicendo tipo, ma Dio in questo caso avrebbe dovuto fare di più. Perché se noi dicessimo una cosa del genere, in questo caso svaluteremmo l'operato di bontà di Dio che sa cosa fare e in quale quantità farla. Infine, l'uomo ha al suo interno tutte e tre le figure divine. Ciò che è il padre nell'uomo è la sostanza, ciò che è figlio nell'uomo è virtù e sapienza e ciò che è Spirito Santo è la capacità di vivificare. Abelardo inoltre distingue tra vizio e peccato. Il vizio è la propensione al male, mentre il peccato è il cedimento della volontà al vizio. Infine Dio è l'unico arbitro del bene e del male. Ti aspetto nella prossima puntata per continuare appunto con i filosofi della scolastica.